Si alza il sipario oggi sulla perdonanza celestiniana numero 727. A sancire l'apertura ufficiale sarà come sempre l'arrivo del fuoco del Morrone, dopo un viaggio di 8 giorni e 80 chilometri, a ricalcare il viaggio dell'eremita Pietro da Morrone nel 1294 per arrivare all'Aquila ed essere incoronato Papa Celestino V. Con l'accensione del tripod da parte del sindaco Pierluigi Biondi, si dà l'avvio alla settimana celestiniana che culminerà con l'apertura della Porta Santa il 28 agosto. Un aspetto determinante è il riconoscimento come patrimonio immateriale UNESCO ottenuto nel dicembre del 2019 e al quale si è lavorato moltissimo in questi anni, soprattutto grazie all'impegno di Massimo Lesi. La perdonanza ormai è patrimonio culturale immateriale dell'umanità, secondo il riconoscimento della lista rappresentativa alla quale è stata iscritta dall'UNESCO. Siamo ormai un'organizzazione sotto tutela, possiamo dire, anche in una condizione futura, speriamo anche di salvaguardia, cioè un impianto che effettivamente fa parte delle prassi riconosciute a livello internazionale. La caratteristica resta quella che l'insieme delle celebrazioni della festa della perdonanza, cioè tutto ciò che ruota intorno al giubileo aquilano, sono state oggetto di riconoscimento. E quindi sono patrimonio in quanto rappresentano l'idea della comunità di rivivere da 727 anni ormai questo momento. E questa è la resilienza della comunità aquilana che vale per il mondo. La serata inaugurale vedrà nel Teatro del Perdono un canto per la rinascita di Viaggio e di Cuore. Si tratta di un evento ideato dal direttore artistico della perdonanza, il maestro Leonardo Di Amici, se scritto con Paolo Logli. La serata sarà presentata anche quest'anno dalla conduttrice televisiva RAI, Lorena Bianchetti. Robi Facchinetti, Rane Grandi, Michele Zarrillo, Simone Cristicchi e Orietta Berti illumineranno la serata con la scenografia della Basilica di Santa Maria di Colle Maggio, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Casella e dai cori della Scuola Cantorum di San Sisto e della Corale L'Aquila, tutti diretti dal maestro Di Amicis. Il tema principale è la rinascita, il foco specifico sul viaggio come metafora della vita e sul cuore. Per questa ragione i brani degli artisti saranno orientati su questi temi. Lo spettacolo di questa sera è già sold out, posti tutti prenotati. Produzioni fatte qui, io costruisco dei piccoli racconti e poi chiedo agli artisti di partecipare. Quest'anno ne facciamo tre di produzioni, è una cosa straordinaria, adesso l'orchestra è in pausa, ma con i ragazzi del conservatorio, con le maestranze locali, con tutti gli allievi, a me piace la masterclass, il lavorare insieme, l'incontro tra gli artisti e l'Aquila.